1,2,3,4,1,2,3,4 quasi quasi se non mi dici niente ma un microfono e poi ancora ti trovi? ancora ti trovi quando sei da casa? hai parlato con un microfono? ti faccio scaricare una mia cuffia mi hai fatto scaricare io ce li conosco ma io non ti ho guardato si ti ha reso lo fa forza così. Se la riuscire a collo ma non ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la faccio. Ma facciamo le partite a Fortnite. Pure tu. Pure tu. Ah ok. E allora chi si è andato a giocando l'amicizio? Ehi, non è fuori i bersagli, l'aria recuperativa. Ma cosa faccio? Ma no, ha richiesto la figlia ma. Siamo insieme. Ma io mi piace. Ma senti. Raggiungete il punto indicato e mettete in sicurezza l'aria. Siamo collegati. Questo è ora. Lo teniamo già scaricato. Però non è che mi piace passare. UAB alleato in sorbolo. Avvio scansione radar. Non mi ha ricognito. Ehi, ci sta accendendo. Ehi, ci sta accendendo. Ehi, tenvi al pavoletto. Chi mi difende, pavoletto? Ma voglio, dai, giochi a pavoletto. Quale sul bersaglio? Nemico. Stività nemica. Eh, però rupo ti dici una cosa. Perché stai in la Bosch? Come ti prendi la Bosch? Non, non c'è messo. Compagno finito nel gulag. Chi sopravvive lì, torna in prima linea. Ma poi la prima che sta però. Io, pavoletto, come ti puoi... Un giudato è bello da un po'. Pavoletto, come ti puoi aiutare così? Io non ti puoi aiutare così. Sì. Non c'è. Paule, andiamo a scendare. Stavo voglio andare a scendare. Stai giù. Non fai dire la mano, ma non è? Sto portando un po' al pavoletto con me. Che sono bellissimo. Stai giù. Stai giù. Paule, andr***e, è rimasto in rete. Vieni, con la donna per taglio. Mi convinto che sia giù a pavoletto con me. Un giudato, un giudato. Mi cerco. Oh, ostia, è vero. Mi hai fatto una donna per tagliare. Un giudato, scendere. Mi sposto. Ehi, guarda dove spari. Tutto a posto. Tutto a posto. Cazzo in avvicinamento. Eh, corto il loco. È giù craccato. Il vostro compagno è stato fuori. In dietro. Un canno è di voi. Ma come cazzo è possibile? Non lo so. Sopravvivi e tornerai in azione. Non lo so. Affermalizzati. Chi è giù burto? Come te? Vai attenzione. Presto sarai lì. Non puoi sfogarti su quei bastardi mentre aspetti. Ferisci il loro orgoglio su quattigli sul tuo ben piazzato. Eh, ma sai. Ho meglio ancora. Prendi lì. Non lo so. Tutti nella zona sicura. Presto. Ora si fa sul serio. Preparati a combattere. Sei il prossimo. Ah, mica è lo colo già fatto. Vabbè. Eh, è giù giù. Eh, ti preoccupi. Ma vengo pure. Vinci qui e ti rimandiamo in prima linea. Maronna mia. Se fermi, sei fuori giù. Eh, ti fai so. Eh, ti fai so. Preparati a rientrare in azione. Ci fai so qua. Tu hai giù. Ci fai so qua. Ah, stai facendo la ricognizione. Oh, che l'era cosa faccio la ricognizione? Hanno conciato per le feste il vostro compagno. Lo rispediamo alla base. Il compagno ritorna in azione. Attendi. In movimento. No, perché mi ha fatto la ricognizione? Come è questo? No, ma stai facendo qualcuno. Stai facendo. Contratto completato. Informazioni tattiche ottene. UAB nemico in volo. Quattro. Non c'è munizio. Ma... Stai facendo una mezza quadratte. Quattro. 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 Ma fai, prendiamoci che l'arma è all'interno. Colpi di piccolo calibro qui. UAB nemico in volo. Non c'è munita. Non c'è munita. Non c'è munita. Ma... Non c'è munita. Allora, io direi... 1200, 1300. ... Già, ci... ... ... ... ... ... ... non cazzo l'hai? 1.800 1.800 1.800 1.800 2.500 1.800 ma abbiamo动 1.800 2.800 1.800 1.800 2.49 non mi fanno un grosso ma hai visto tu mi ne hai ancora fatto eh che mi hai detto qua allora qua, non sopra lo guardiamoci lo guardiamoci ah ma arriviamo a lo guardiamo mi è arrivato un sciopero un po' la gente è affosa è già visto è già visto toglietevi la mia damaglia la mia damaglia salvo a bordo salvo a bordo salvo a bordo salvo a bordo ma c'è fuori! ma sta bene! ah si si no tu sarai giù! puttano a fuori! buono! puttano a fuori! ma non gli ho scampato! nooo! e uno sta andando! è uno sta andando! il lato no! e non so chi! non so chi! si sta qua raffaele! sta qua raffaele! mi hanno fatto le domande ci sta raffaele! si ci sta! ora raffaele ti devi farlo! sta in coppa a twitch! ma chi è che è? è una buona coppa a twitch! e mi ha scritto ci sta raffaele! non lo so! chi sto direi raffaele? va bene! dopo vediamo i piedi! ci sta sempre, ci sta sempre! dalle 23 in voi! dalle 23 in voi operativo! fate un po' di pratica finchè potete presto ci muoveremo ostile in discesa nell'area occhio in alto a la fango a la fango a la fango fine del riscaldamento si aprono le danze come che mi funziona un microfono buono qui eh 60 km no si vede non ci vede ma lei cattaro e cuscita a San Gabriel non c'è stavo vedendo si vede no si vede si vede ma attenzione ecco ecco non c'è 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 ma a me i cuffi sono buoni ma a me i cuffi sono buoni non c'è non c'è non c'è no non c'è si vede ti ma pure non mi devo guardare prima cosa è solito? ma come è? è tutto il shop più lontano voglio andare un po' in via che esiste qualcosa chi va? non c'è niente non c'è niente ora vengono qui ah e allora non c'è niente vengono qui vengono blu vengono blu vengono coordinate in arrivo ehm vengono storage vengono あー vengono che si è parecchiano vengono 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 ma che dai stu car v2? se vi serve c'è una sezione di acquisto no mi piace 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 no vabbè ah io vediamo anche lo scioppe ah non mai ah vabbè ma è a forza un lato stai d'accordo? tu l'ho avuto un benzino tu venite un attimo e capiate che stai cazzo in emissione ho trovato un potenziamento da campo ma gli sto andando lo scioppe però ma vedi i cazzo in arrivo sto su lì lo scioppe ma mi fanno scorrere il sangue mica vi metti i fatti mica ma c'è la piazza da te Paoletti sopra l'altro sopra l'altro non so c'è chi è ma va a fare lo stai da braffare sai sempre avrete a fare l'ucido voglio sapere ho i dati di munizione qua c'è la corazza c'è la corazza voglio casare la luta ancora mi tacca ma c'è via altra cosa ma che vuoi le fredduone? è già su buono e i suoi che sto malato siete salvi avete seminato gli inseguitori voglio roba da non credere è già dovuto non so c'è quanta cazzo è casciuta se vuoi fucile che tengo in moto giò tempo esaurito il contratto è annullato guardate l'altro monte vado a arrivare ma qui si è salto mi metto anche il re ragazzi mi metto lancio l'equipaggiamento alleato in arrivo silenzio i tumbo bici ci sta distruggiamo quell'approvvigionamento Indico un oggetto, roger Elicottero nemico Io mi inviano UAV Si si, prendiamo i soldi Ehi, dai, dai Ho avvistato del denaro Indico la zona bersaglio Lo tiro Ricognizione alleata attiva Qui Jaguar 3-0, confermato Battugliamento UAV iniziato Siamo qui Siamo qui Siamo qui Prendiamo 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 Poi Tra poco Siamo spostati Attenzione UAV in rientro forzato Per fare rifornimento Prendiamo 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 Io mi metto al volante Vengo anche Mi siedo qui Ehm chiediamo Spare Spare UAB che vieni controllo Mi scatto Mi spara Mi spara Mi spara Un tiratore Un tiratore Un tiratore il compagno ritorna in azione attenti lancio il equipaggiamento alleato in arrivo vieni vieni non devi far morire questa montagna che si può finire la foglia e non mi dici nani vieni ma non aspetti si sa ferma con il gas si sa ferma con il gas si sa ferma con il gas in movimento si sa ferma con il gas battaglia continua ok vai ok non ce ne vuole il mio ma è mai solo per coppia aspetta fammi vai a posto non è niente non è niente io mi manca una corazza e tutto cosa chi è tutta da 3 ore in terra ma ti stavo darò l'uccisione ma eh tutti e tre eh tutti e tre io ci vuoi fare eh non appunto tutto questo io mi sono venuto ma mi non l'ha già fatto io c'è da fuori c'è la corazza eh mi serve una corazza ecco a noi ti vuoi avvicinare no ma che cosa c'è UAB alleato in sormolo avvio scansione radar avete del gas in arrivo aiutemi sempre un gas proprio lontano lontano la safe voglio ci manca di ci manca di aiuto dobbiamo arrivare alla zona sicura ho sentito un po' ho trovato un potentiamento da campo siamo troppo open a corto il luogo a corto il luogo a corto la coppia UAB nemico in volo uAB nemico in volo uAB nemico in volo oh voglio usci 48 ma e la linea carica piazzata dal locale sono fatta ciò fatta giovane è una fatta mi chiesa da verso io mi hanno picciato non so c'è la rete vedo una stazione medica ma io vado là pure a me pure a me pure a me sarà ancora poco per noi vado di via lo stanno vado il nemico in volo ma non so chi se ne vado bene non ci fai non mi pingo vado ma chi sta ma io ho gas ho gas è descendo per forza si saldere da noi vado si deve andare all'alto ma non lo vedo vado 25 metri stanno qua vado vado ragazzi stanno qua 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 stanno pingo blu o tre vado cingerà non mi 만iamo in prima linea se perdi se fuori gioco vallo fuori o conquista all'obiettivo vado fuori o conquista l'obiettivo medio Ti acconciato per lo stesso Vendiamo alla base Se ha abbastanza soldi Paganti la cauzione Mi muovo di qua Ok prende l'arancione Eh si perchè che faccio Oh sta facendo andando Vieni con la zona bersaglio Vabbè c'è stata sotto Ah si stanno qua Stanno qua pure Sparo Sparo pure qua ragazzi Restinazione marcata Muoverci Aspetta Stanno qua Stanno qua Vedo un contratto sciacallo Soprano Soprano Sparo Soprano Soprano D� Stai 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 da scaldi no! da scaldi no! bravo Michè bravo! qua 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 appena è uscita giù! bravo Michè! ha accorto un luogo Michè sta tra sé! o ancora no! no! mannaccio cazzo! guarda! mi hanno colpito! mi hanno colpito! bravo! ottimo! bravo! ci sono neanche i morti da scuola! hanno uscita tutte le parti avremo! hanno seguita la Coppa da sola! ahmah! ma allora ma? ma mamma! non bufavole e volesse fanno ricercate ma non lo guarda che non cava ora entra raggiungete quel veicolo ricevuto posto il contratto ricercato ma non c'è il fatto ah sta la mia zinni a destra che è loro non c'è un altro cavolo c'è un contratto ricercato C'è questo che c'è, raggiungete quel veicolo. Un alleato è stato segnalato come bersaglio ricercato. Proteggilo a ogni costo. Alla prossima. Alla prossima. Ero in più. Ero in più. Ah, fantastico. Ero in più. Ero in più. c'è lì c'è fai salve salvi a te nooo uomo dai faccio è rivisibile stiamo a mezzo proprio a tre non io faccio vico ah bo Non c'è i modi di fare i modi. Non c'è i modi di fare i modi. Non c'è i modi di fare i modi. Non c'è i modi di fare i modi di fare i modi. Non c'è i modi di fare i modi. Non c'è i modi di fare i modi. Non c'è i modi di fare i modi di fare i modi di fare i modi. Non c'è i modi di fare i modi di fare i modi. Non c'è i modi di fare i modi di fare i modi di fare i modi di fare i modi. Non c'è i modi di fare i modi di fare i modi di fare i modi. Non c'è i modi di fare i modi di fare i modi di fare i modi di fare i modi. Non c'è i modi di fare i modi di fare i modi di fare i modi di fare i modi. spedetto io che ce lo so os ti posso io lo colpito ma non so non lo so no è il legno attacca un coppio un uomo di qua ok ok io guardavo ai tuoi lato corazza ho trovato una corazza non ho trovato una corazza ma uno è un cavo per loro che si parava a noi no, noi abbiamo fatto uno però non ci pensi di parlare eh si però ci si è venuto di catturino pattuglia ostile che cazzo ha sbagliato il tasto uno si è venuto di catturino nuove coordinate in arrivo non lo so non lo so Ah, è morto, se c'è l'arrivo Ma chi è che l'arrivo? Ah, si in arrivo! Chi è questo? E' quello che ci guarda, chi ha? Chi è sul luogo che sta morto? Chi è il luogo? Oh, vieni qua! Un cacchino di fuoco, vai giù Abbiamo un cacchino Il palazzo là, è morto Oh, guarda dove sono arrivati! Perchè ti comporti questo? Tu avvi il nemico in volo Porca p*****a Ma chi è questo? Perché ti comporti questo? Tu avvi il nemico in volo Porca p*****a Ehihihi Ehihihi Ehih, si, vengo blu Ehih Ehih Chi è la polizia? Mi muovo di qua Chi è la polizia? Ehihihi Esatto Abbiamo pure i colpi Ho barcato dell'equipaggiamento voglio un cazzo è dalutango facciamo un genio, facciamo un genio facciamo un genio facciamo un genio facciamo un genio non devo vedere più ti ha buttato un genio mi muovo di qua indico la zona bersaglio un tiratore pattuglia ostile si è assurdo pattuglia ostile no lasciamo stare ti ha buttato un genio facciamo un genio non importa guarda 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 è un genio 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 mi muovo di qua però chi sta senza indico il fucile di precisione andiamo a prenderlo chi sta senza lot out non ci vuole è un genio 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 sono ben me spara non sto Lotta per tornare in azione! E oggi avevo fatto! Andare eeo mio! Ma hai fatto? O che te tu è io? Hai lasciato due viste! Io non voglio indagare questo.. Al me ne ho fatto! Adesso fai qua! il combattimento è iniziato preparati a combattere vinci qui e ti rimandiamo in prima linea se perdi sei fuori gioco guadagnati la libertà soldato è acconciato per le feste il tuo team può pagare per farti rientrare se hai soldi mamma quanti sono stati fatti non alla missione guardate mica guardate mica guardate mica guardate mica guardate mica ah io non potevi non è nulla ma che stanno fredendo? ci ma fanno tutto altro che ne chiesa orimente ci sbagliate senza assicurarmi che lui veniva sbagliato io no vando ma e facciamo si nema rudi sta a usi strancio piacere così z'ubi da wasi Riscaldatevi per bene, tra poco si entra in azione Il divertimento è finito, si va nella zona di guerra Soldato nemico in arrivo Non esiste un po' di lancio, non esiste Battle Royale, indica un punto di lancio, conduci tu il DIM Gas in avvicinamento rapido, andate nella zona sicura Recuperiamo un po' gli equipacciati Cassa di scorte è marcata, recuperiamola! Cassa di scorte è marcata, recuperiamola! Va' chicca eh! Vado io! Vai, vai! Prossimo obiettivo localizzato! Claymore in posizione! Mi stanno sparando! Mi stanno sparando! Posso dire che è l'unico? Mi stanno sparando! Mi stanno sparando! Mi stanno sparando! Si, si, si! Mi stanno sparando! Mi stanno sparando! Ignorare! Mi stanno sparando! Ok, vai! Mi stanno sparando! Obiettivi aggiornati! Passare alla prossima area! Ok, puoi capire! Elimina tutti i bersagli nell'area operativa! Passare alla prossima! Sporale! Capito! Abbiamo avuto le spade! Non so, non so! Come non so! Heppi! Sporale! No! Assolutamente! Che abbiamo avuto l'area anzima! Sporale! Vi stiamo sparando! Chiuderemo la scorte! Chiuderemo la cassa e munizione! contratto completato tutte le casse di scorte trovate se vi serve c'è una stazione di acquisto contatto visivo c'è del denaro avete un lancio d'equipaggiamento in arrivo UAB alleato in sorbolo avvio scansione radar arriva il gas chiude anche la cassa di munizione si è pulita e che ne accordo ma io assolo perchè non vuoi che non vuoi avvi tu eh si sono una mela mia perchè non vuoi che vuoi avvi la cassa di munizione non vuoi però oggi ho usato chi sta eh indico un oggetto vedete l'attacco a grappa si è capito ma io c'è stato di muro a pano palazzo sul cale sui segni però comunque c'è una maia a capire nuove coordinate in arrivo stiamo troppo lungati da sei ok Oh, ammina da boss Che n'è mai? No ma io non ci sto capendo niente più perchè che sia la mappa 9 io perchè si mi riscordate no e mi riscordate che avevano fatto l'aggiornamento capite quello che io volevo vuoi fuori diceva maio sanisilo sono sanisilo si è capito hai capito se vi ci chiedete maio sanisilo alla coppia se mette in seguito come fossi c'è una macchina qua nuove coordinate in arrivo l'altro equipaggiamento tattico qui possiamo andare all'hangar indico la zona bersaglia la zona medica individuata no lasciamo stare non importa attrezzatura medica individuata non ci accendi più siamo tutti fuori io lo so anche sparare la sua viva è fuori e non ricordi che non è nativo qui jaguar 3 0 confermato quattuglia di coppola che è un lancio d'equipaggiamento in arrivo affermativo in movimento o annettare distruggiamo quell'approvvigionamento ma ci metta l'undano e giù gas in arrivo alla nuova zona sicura attenzione UAV in rientro forzato piccolo nemico avvistato ma ti meso? venghi dai lancio? si lancio lancio UAV alleato in sorbolo avvio scansione radar esatto ora hai un 저 che mai accadо non lo avisa non lo avisa ma bu being nemico in volo ma se dovremmo incendere qui è open, vai quello comunque diciamo ora che è scato spettacolo che non è mai super accaduto proprio open spattiamoci state perdendo terreno oh va giuntamente indico la zona bersaglio dobbiamo arrivare alla zona scuola paramo a faccio il limone non spero non spero non spero però non è che la zona che è in assunzione che mi sono cercato molto bene ci sono ora mi sono cercato a città mi sono cercato per cambiare ci sono vai eh lo so non è non è veicolo nemico avvistato non mi faccio voglio vigli sta casa a ca... si sono portati via tutto ma nullare no, finisce che sta bene ma io, qualcuno viene con me guarda qui guarda qui sono 3 di loro guarda qui sono 3 di loro sono 3 di loro c'è più 3 di fuoco eh bravo ma qui è qui tu comprendi ma non mi prendi il mio sacco ah ma stanno cerchendo stanno cerchendo guarda qui non mi prendi il mio non mi prendi il mio non mi prendi il mio un amico in volo no no, non mi prendi il mio non mi prendi il mio ma non mi prendi il mio allora andiamo a cittadino graffa l'ho alleato in arrivo guarda qui guarda qui oh cazzo è stato scato ah ok guarda qui sono male hai vinto metri all'interno a me 16 metri e stanno anche per noi ho accorto non mi prendi il mio raro non mi prendi il mio i fantasma io tanto fantasma io ti prendi il mio mi puntano sono come un cazzo su sony era ormai così poco forma e la parola non già faccio il malo mi sposto come fa muri su tre e loro però e se vengo questo dice mai sono non andava nuvole dove è messo a me? sono un colore oh no! mi spaventare che tredio? gas in arrivo, zona sicura riposizionata sono un colore sono un colore sono un colore non ho neppure il loco non lo so sapere mi ha trovato subito andiamo tu no non lo tengo tu avvi il nemico in volo mi muovo di qua compagno inviato nel kulag combatterà per tornare in azione stai capendo? devi andare a scendere ho l'hanno lì ma come facciamo fare questo? come facciamo fare? scusa che cazzo non so voi non lo vedi caro sosso perchè sono le colpe il nostro compagno non lo so avete del gas in arrivo non lo so non lo so non lo so non lo so va giù no no non lo so va bene sta a terra tutto a posto per essere nata in squadra lotta per tornare in azione devi aspettare il tuo turno ma mi sembra l'aspettare appena sono passato ma che l'ha così non so se ci fa un guolo ah non capisco il guolo e se vinci questo scontro torni in prima linea se perdi è finita mi piace fare la mattina hanno conciato per le feste il vostro compagno lo rispediamo alla base tocca a te soldato occupati di quello stronzo ehi l'hai fatto a pezzi preparati a rientrare in azione compagno in rientro nell'area operativa ho marcato dell'equipaggiamento ma sei esciuto agliù stoccavo agliù e sopra hanno ricevuto eseguo il contratto ricercato no io l'ho vecchino agista giusti livelli in movimento annullare ma mai come ok ho marcato dell'equipaggiamento gassi in arrivo spostamento della zona sicura aspetta un'aria tu raffaio non scende tu raggiungete quel veicolo hai scelto di diventare un bersaglio ricercato fai molta attenzione raggiungete quel veicolo oh la romea armi sviluppo i calo non è capace per me ma non posso con lui ma quando tu cos'è ragione avete del gas in arrivo questo è fatto ti hanno fatto si è l'ultimo del tuo team ma completa il lavoro 3 anzi ma voglio fingatemi cos'è ma stanno andando a piglio a me ah becca marco è un veicolo ostile poi fingatemi cos'è andanza a me allo qua non c'è qua non c'è voglio ignorare ma tu non puoi pigliare questa mano raggiungiamo quel veicolo poi dopo non do non c'è bravo ok perché uno si che li liacchi stanno 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 campionando il gioco poi si è accorto marco è un veicolo ostile quando fa ostile questo cazzo sta al suo cuore adesso stanno 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 stavolta l'abbiamo perso ci ripari i palli ti faccio rapporto vado a vedere che sullevare si su scema scendere o no capito vai esci tu va beh eh si mi scolletti ok aspetta voglio blocco l'ho l'ho capito ora blocco l'ho 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 u diciamo l'ho l'ho покупato l'ho eh ma io ti sto invidando il fratello mio Robi 90 questo Robi 90 eccolo qua Robi 90 affo eccoci eh noi siamo tre aspetta aspetta ma tieno cose bloccate tu che non posso farle in vita stanno andati qua giù che stanno aspettando eh no perché noi siamo già tre capito? io posso far entrare una sola per su no aspetta noi ci devi dimmi capito? me l'abbiamo a cercare no non sono io non la porto io la Robi non la tengo io affo buonasera buonasera ciao buonasera buonasera spesso c'è un cane di capicchia che sta chiamando o non lo so allora vai a fuoco ma che cosi ne pure telefonate in diretta a fuoco fa Twitch ti fai chiamare pure si che vedo la parola comunque il numero superimpressivo 899 ma che faccio se te le vedi tengo a Twitch eh a fuoco comunque è stata una volta che c'è buonasera di renditi eh aspetta giusto un attimo aspetta chi ci sta più ma sto capendo nì a fuoco ma fammi capire una cosa ma perché tu a me non mi inviti più non mi inviti più che tu si non si non si non si non aspetta aspetta ti voglio capire chi è che parlo aspetta voglio capire chi è che parlo voglio un attimo di silenzio parlo io su quel Siberezzo scusatemi no ma che è piacere riesci a andare a lobby ma scusate ma fai mi capire una cazza ma fai mi capire esci fuoco esci 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 no 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 boi si pelli dici 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 dimmi dici come ti inviti già l'usimo già quattro ma è asciutto rafael si è liberato un posto come faccio a te inviti siamo tre noi possiamo avere una sola partita una zona per su, ma se ci accettiamo ci spartiamo benissimo il problema non c'è Comunque è bello Lupe Pistrella, Alfo Ha visto? Ma dovrei vedere quando mi ha cagato un'acqua Alfo scusami un attimo, ho fatto una partita con te, sei un grande In che senso? Fai rire Pazziazza Ah che sono scemo allora, non che sono un grande Fai capi, fai capi che mi trovo che sei un grande Ma mica fai scemo Cosa c'è finì? Allora, voglio No, 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 no No, no Allora, siamo a mettermi 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 Aspetta, fammi vedere si può essere Tu hai fatto prendere quello da Sibirizzi, mi aiuto Oh, un sacco Ma Paoletta è riuscito a Paoletta È un appiglio a Paoletta, secondo me Ma scusate, Roby90, io l'ho invitato, non... è uscito? No, sono io, sono io Stacca Roby90, ma mo dà dei complimenti Eh, ne capite che mi arriva ancora l'invito Roby90 a me No, 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 no Uno, uno Non so come mai uno ne ho mandato Vabbè, eh, vi vuoi quando ne arrivi... Allora, tra i biscotti ci puoi dire a ma chissà di guaglionare Tu guaglioni Ma chi le stanno arrivando sull'invito? Vi le già stare Vabbè, come fa? A me qua Eh, quando ne siamo in madre? Cosa ci siamo spartiti, vabbè Siamo sempre in usi Siamo sempre seri Faticamente rimaniamo come stiamo prima, capite? Non cagliate nè Questo è quello che voglio dire Perciò voglio tirare dentro altri ragazzi Sottato Ma Paul Bittaro sto Ma te Eh, boss Ma... Super Silver è uscito Super Silver è uscito Super Silver è uscito Ah, è uscito Eh, non lo vedo più Oh, c'è qui Oh, lo voglio... No, no, voglio... Si s'alfonzo... E io mi la jay Oh, ma chi da ciò? Si dà qualcuno di quale eh Eh, perciò Non c'è ma cosa Si, moto Si, moto Eh, sta puro pezzo Si, 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 sta puro pezzo Se, va pezzo Ma poi giussi in moto Siamo 8 Allora, apposso A me basta Che non mi lo mettete, raffonzo Pudemmi qua Allora, cominci a scia Allora, quello cominci a scia la fonte a la scena roberto e mi piace c'è terra ma mette in acqua ciao ciao c'è roberto da fronte no voglio unissimo già tre poti mettere uno solo vado qui chi vuoi rimanere con altri due amici qua sta michele e paolo con me siamo 4 e 4 siamo molti noi in alope ma sarebbe una persona un po rimanere qua che non gli ha mangiato ma ma fa whatever verità di per me è bello allora non te ne vado bene ora io li stavo dicendo. ma bacino roberto formigliano che sono vicini stasero a me mi amano io che sono commessivo io che sono commessivo ti amo a capocchiafo oh ci rimanerò si sfortisce la cosa ci rimanerò ciao ok ok io non mi mando se mi esco a livello allora allora chi lo manda Roberto con me manda Roberto con me ah e sta chiamando nisso ok ah guarda Peppa che schien voglio la schiena ti piace ah sta solo Peppe ecco qua vai Paolo start eh no mi ha fatto due due squadre da quattro si 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 due squadre da quattro no 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 stavo parlando stavo parlando ok ok mmm ok mamma mia non è che ne capite niente sono i ragazzi nuovi che sono entrati nel reggimento solo che abbiamo il reggimento bloccato e non possiamo invitarli perciò tu non li vedi capito però li trovi sul gruppo sul gruppo li trovi ma qua non è bisogno finiti in un reggimento perciò poi che reggimento che abbiamo fatto Paolo è chi tena la scigna chi tena il cane chi tena il porno fate un po' di pratica finchè potete presto ci muoveremo Paolo è abbiamo fatto un reggimento che mi pare un zoo chi tena la scigna chi tena il ciuccio chi tena i pipistrelli chi tena il cornacchio ehi chi tena il cane chi tena il cane chi tena il cane è giusto aspetta come si chi è quello che tena il cane un'altra cosa come si chiama Deko ciao Deko no io ho fatto io ho fatto una partita con voi niente però una partita ma in denso ehi vabbè non hai visto ancora niente non sto messo in denso no 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 non ho denso e vedi quando il look da parte della racca che sto dando i micro e che lo so me la voce Paoletto non ho denso 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 riprovaci e ti ammazzo personalmente sei indedito e lo riscuoterò destinazione marcata muoversi io voi non ce li capite usiamo delle armi nel prepartita che sono tutta un'altra armi guarda la prima ma in della partita ma come non ho capito ma non ho capito non ho capito mai questa cosa Paoletto eh Paoletto ma noi siamo quattro aspetta ma non ho capito ma non ho capito battle royale oh Paolo vedi che noi siamo già quattro di noi ma ci stanno dall'altro lato però guarda la zona sicura vieni un poca pari tu alloghi eh mi stanno invitando la lavoro all'anno eh come ha già appena eh voglio usare già quattro non posso fare niente voglio chi ping chi ping voglio io mi che ping tu vedo un contratto sciacallo vedo un contratto sciacallo quello è mio io c'è Michele ping io sono capo squadra mi che ping 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 mi che ping mi che ping può servire quando è di mano fagliela pagare eh fagliela pagare voglio hai trovato ping sei fottuto un sciacallo buono amici in movimento se hanno fottuto il sciacallo vabbè vabbè eh ecco mi rimasto con me fai il salario vabbè eh 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 ora siamo qua siamo qua siamo qua bandierini ho marcato dell'equipaggiamento contratto ricognizione confermato contratto ricognizione ci penso io vabbè due non mi ha pingato tutt'e due si hanno fattuto oh Michele tieni una bassa Michele ah stai giocando eh bravo 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 oh no 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 è mica la scema chi sta scema proprio chi sta più a pietà ma non è al gregnone chi sta scema non è scema che sei avanzate alla prossima area e mettete in sicurezza il perimetro ma in me tutto a 4 voglio però eh mica sta a presto mica vieni pure tu a bandierina a bandierina ah si perchè si sta a coronati ci fanno scorrosare mi sposto ho il logo e ci stai si ho il logo attività nemica pattuglia ostile veicolo nemico avvistato sto sopra già sto facendo la ricognizione vengo pure caro guarda informazioni tattiche ottenute ottimo lavoro guarda 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 preparati sei il prossimo aspetta un biglietto un bagno caduto giocerà alla base come ha fatto sto scema ne ho capito vinci questo scontro e torni in prima lì per te è finita tocca a te soldato occupati di quello spazio ha rimasto solo portiamo a casa il tuo team può pagare per farti rientrare se ha i soldi hanno fatto una unica chiesto fatta fino ad un'opera di stasera è però puro verona fa una partita con sé ma che cazzo veramente ho capito però capo bologna 4 a 1 l'udinese è persa 5 mica più adattivi che mica più adattivi rischi troppo bella bravi da it a me capo maria porta mica l'uomo il metà ci fatti che legge c'è mi metto e adivano tutti così bello mica accorti sono tutti medica qui un punto come sono veloci nuove guardate che cazzo mica però sta vicino a poletti vieni a sinistra tu, a sinistra ora, a destra ora, a destra ora, a sinistra o a destra, sta buttando la vascella, ricchiamoci laggiù, guarda che sotto si è buttato, su Michele faccio il casino, guarda giù di questo, perché sta andando l'arma all'andare, mi chiede, elicottero nemico, che è tutto luttato eh, fai un mitraglietto, dopo Michele, non rompi i vetri, Michele, non rompi i vetri, fai un mitraglietto, Michele, non rompi i vetri, Michele ok, vai a finire, perché stai andando, si va, si va, bambi, oh ok, sto subendo il fuoco, nemico, oh, stucca bene l'in, non capisci certe cose che non capiscono vai male ha fatto stupulare si non capisci in questo modo non capisci non capisci non capisci non capisci mi piace non capisci Tutti c'è pochè i flitti, tutti c'è pochè i flitti Bravo Volevo vintato tutto russo Sono pronto Ho vinto io Ci hai fatto i cuoricini Blevci Ma che cosa si vedi ? Volevo vincere Ma che cosa si vedi ? Inoltre Ma che cosa si vede ? Ma che cosa si vede ? Volevo vissi ? Volevo vissi ? ma chi si chi sparò mica ha visto a chi la chi sparò ah non sei lì devi sparare non puoi pescare tu vuoi eh facile facile sparavelorichi indico la zona bersaglio allo ho un contratto ricercato raggiungete quel veicolo potessi fare tutta cosa un po' annullare capiglio la lancia vuoi vedi la rossa che la lancia l'abbassi capiglio una rata capiglio prima capiglio prima mi scusso non è rara la roba mi metto al volante pulo che stanno facendo la roba la vola attenzione un membro del team è diventato un bersaglio ricerchiato dovete proteggerlo l'abbia 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 la uccidia Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, capito? Io mi metto al volante Io mi explico, davvero niente Ma come è giusto? Che succede? Hai visto che ha combinato? Non sei il testimone! L'ultima è andata con il cucchista! No! Non puoi parlare con il cucchista! Ma come? Una cerchina! Non sto filmando! Non lo so! Non ti credi che non lo voglio fare! Ma l'ultima è andata con il secondo! Che cosa vuoi fare? Non lo so! Stai buttando l'aria sempre! L'ultima è andata con il secondo! Ah! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Ma per quando? Non lo so! Non lo so! Ok! A posto! Ma per quando? Ma per quando? Ma per quando? Ah! 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 Che cosa ha fatto io? Bravo! Ah! Sì! Non sta sta nessuno! Che l'uno lancia? Toglietemi! Qui do io! Vuole che sparare? Spare! Voglio sparare in loco e basse! Spare in uno! Si si si! Stai in un cerchio! Stai in un cerchio! Michele ma tu non ti fai a girare per lo con gol però Tutto a posto, tutto a posto Oh lì lì ti vuoi trovare un po' di munizione e chi si può trovare l'arma Oh c'è una lì tu Lo so lo so Sì 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 stanno qua, stanno H3 No ma l'ho fatto per te Ah una a destra, a destra e a sinistra è venuto Ho scatto con il nemico Oh no Oh Michele Eh no, non è da moda Oh non è da moda, io Non è da moda Brava vole, è brava Sare un gol vole Che l'ora vole, sono due Sono morti Ah fai morti pure tu Tu cecchina la va Nice Accorto che se tu giri su sciama da f**to Allora C'è lì Allora Tu c'è un gol È brava E' gatto In coltato In coltato Il coltato ma sono le squadre? eh, ero le squadre sì sì e tenevo pure a redi, capito? ma sono... ma chi hai cammino in vita? a chi... cioè le prossime manature ha richiesto c'è Luke e Travis Scott tu la fai... tu chi so? c'è io ci mando... ci mando ripetere tutti o tre ma nessuna risposta ma stai due anni ragazzi voi sentite notte notte giorno a giorno giorno a notte allora noi siamo tre abbiamo un posto c'è qualcuno che è rimasto fuori che vuole entrare fate un po' di pratica finchè potete presto ci muoveremo ahahah hai ragione Paolo no, io... qua siamo quattro di nostro io a Ranecco compagna e ci sta Roberto con noi di là ci sta... Gianluca e gli altri ragazzi e Nino questi si mi hai stupor nude che mi hai sparato con la freccia no? Robi nude che si ti provo oh ma tu ti sembri in live? si sembri si si ah ok ok no no giusto pure che scappo qualche parola ahah perchè io mi mandai in colubino me lo f**to no no lo f**to no dai dai ogni tanto così vengono spontanei proprio fine del riscaldamento si aprono le danze si aprono le danze c'è la stessa arma che da niente in due partite acqua a mandare non va buona come è? bah non lo so due partite va buona battle royale indica un punto di lancio conduci tu il team gas in avvicinamento rapido andate nella zona sicura lets don't take that sono sbagliato recuperiamo un po di equipaggiamento o andiamo qua quello è mia attività nemica tutto questo sole è bello pedalare si vole sto 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 ok sai gente eh non so che ti fa? non mi fai in movimento non c'è non c'è bersaglio bene gente diamo che si attaccano mi attaccano non c'è vado vado Sto scendendo dalla coppia palazzo Sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo perchè ha scattato anche i morti, sto scendendo, Roby Ti abbassi Sì, vado, 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 vado Sto palazzo, non sto qui Sto qui In movimento Non ci sa più, pulito giù Stacca, stacca, vado, 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 vado Mi sposto No, io non ho capito Stava uno giù perchè... Eh, a tra su te hai sparato Vado, vado Nemici nell'area U avvi, nemico in volo Vado 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 ma c'è un po' di rambia lotta per tornare in azione c'è un po' di rambra attenzione il vostro compagno è stato sconfitto sta tornando hanno conciato per le feste il vostro compagno lo rispediamo alla base mi occupiamo subito ora si fa sul serio il prossimo sei tu preparati se vinci questo scontro torni in prima linea se perdi è finita tocca a te soldato occupati di quello stronzo sta parlando di fronte a te di fronte a te e di fronte a te sopra o sotto eh è subito in corpo ma è perfetto hai fatto valere preparati a rientrare in azione non ci capito però ho visto che voleva fa' boh il suo è una corona eh lo so ma non ci riesco è brava parona mi chiamo la canacca a battendo la casa di Bortuna, la chi la vuole c'è? C***o! Alla tenna a salermi! Già c'è sto! Come tu ci stai? Posso guidare io? Sì, io sto, non c'è l'impegno! Ah, hai bisogno che eri di Caserano? No, 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 no! Hai ragazzo? I ragazzi, Paolo, Stefano, sono di Caserano! Ah, ok, avevo capito! Invece, no, io sono andato e cresciuto nella provincia di Salerno, Eppoli! Ah, sì, sì, me l'hai detto già! No, io l'ho capito che era evidente! Però vivo a Berbania! Ho tre anni che vivo a Berbania! Michele! Chi è? Sì, è questa verbania! Avete sentito oggi l'incidente della funeria? State perdendo terreno! Eh, sì, sì, quattordici morte! Quattordici morte, stasera! Sto ancora hanno quattro ore! Allora, come l'ho fatto? Ora sei un bersaglio! Ora sei un bersaglio! Guapin nemico in volo! Io, la verità, ci vado spesso! Però vado con la macchina, perché è una montagna! Che mia moglie non gli piace la funicolare! Guapin nemico in volo! Però... Eh, che ne sa! Cioè, anzi! Dicono che avevano fatto l'attenzione! Non so guidare io! Però... Qua... Le pazze si mangiano i soldi! La roba in anno è stata chiusa! Ah, queste famose! Stai a chiedere l'idea! Nord e sud! E' tutta una... Capite? Capite? Mi hanno messo i dettagli di colpino? Mi hanno messo i dettagli di colpino! Non ho messo i dettagli di colpino! Quanto li dico a fare? Ma come è possibile però? Cioè, capite? Non ho messo i dettagli di colpino? No, no! Mai! E' proprio un volume! E' un volume! Allora... E' fatta pure la curva! E' fatta la curva! E' un sito sparato! Mi puntano! lo sono termite lanciata ma già c'è giù contatto, contatto, termite lanciata qui c'è un bersaglio ah sì volevo vedere un attimo ma c'è visto un attimo ma qua amiche rimane a fatica vieni con mon precedate mi rimane a venire a set tu a venire a set si si è lotto rimane un mera confidenza a fatica no, mi rimane non chiamò bravo rieccomi mi chè ma chi si fa fatene con un po' lavoro mi chè? se ne vai a camminare stasamo guardati ma ci pu... che lavoro fai? prima che aveva fuori è una fatica allora che lavoro fai? roberto se ce l'hai con me è una cosa se parli con Michele non parli di fatica non parli di fatica mi parla tutta da una cosa non lo faccio mettendo da so non ho capito scusami mettendo da so ah ok ok creme solari fa Michele eh già ma le metti pure si installazione compri no no creme eh appunto e che stai giù? installazione compri ma rovo pole ma non c'è un ragazzo? non so o dinosauri ma non c'è un po' di pratica finchè potete presto ci muoveremo pole non c'è un dinosauro non c'è un po' di sta finito quindi sta stancato capito? ah ci hai capito soldato nemico in arrivo ci hai capito? eh sta rummando ora c'è rummando pure la mamma non c'è un po' di eh chi l'ha portato fanno pure questo? no ma poveracci veramente eh non so come la pezza di questo è tosto eh lo so immagino questa sera c'è la gitta è bella papà papà ha le palle gonfi ahah basta mi chè mi chè mi chè io ho un secondo che a me non c'è eh ci ha passato prima tu ancora oggi non vuoi ma non vuoi cruz? fine del riscaldamento si aprono le tazze figli piccolini vai piccolino figli cruz mamma mia capo chi non fa niente non hai capacesse come te ci dici c'è sempre una presa ehm per esempio ieri sera bello e buono papi stasera mi vieni a fare compagnia nel letto io già stiamo pronti che vieni a pensare a capicino se ti fai una cosa chiami a mamma no io stasera voglio a te che ti guardano poco qua da te non so per te chiamma brand c'hai capi? passalo ragazzi è un punto di laggio per il team ma poi mi ha dato pure iassi in avvicinamento rapido andate nella zona sicura ehm ha qui lo sciacallo che ne pensate di quella zona d'alto confermato ok c'è un po' e' iniziata con il capo sai che ci vuoi fanno arrivare e' iniziata e' iniziata ignorate quello che ho detto non ci vieno a nudi e' iniziata trovavo nooo o' l'ho ganato e' iniziata 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 grande troppo grande da gestire capito? se ne va a coppia per sotto quando mai esco la pasta fa niente, la parte immamorita elimina tutti i bersagli nell'area operativa cassa di scorte individuata, la voglio in sicurezza andiamo con altre cose si è imparato a mettere questo caravan in terra con un'arma ma c'è sempre chi? la volta mettere un M16 uomo della madonna ma che fai? eh, se ne trecca eh vedo un tiratore va vicino al sciagallo no, 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 il sciagallo è qua è a punto di chi? dove è successo? compagno finito nel gulag chi sopravvive lì torna in prima linea faccio i murchi che... non è così obiettivi aggiornati passare alla prossima area passare alla prossima area non è stato luttato adesso ma sta solo compagno in rientro nell'area operativa non è così prossimo obiettivo localizzato obiettivo principale raggiunto tutte le casse di scorte trovate voglio via di notte a etni miso da ma lasciare di lasciare calca come la tv il contratto di connessione operativa c'è una stazione di acquisto un luogo 1 mi sposto toglietevi guido io mi hanno colpito abbattuto mi muovo mi muovo questo è un certo non c'è chi ne no 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 sono scema alla batch e non dilo una giù fatta è rimasto così va meglio un bel indietro per cadere al sacco di una rechiamoci la giù ero scimmite con il scimmato ammucinato no non sparati ha già sparato io mi metto il volante vedo invece fanno un mando lancio ma chi c'è ma mi muovo punto di raduno definito grazie destinazione marcato vuoi poi stavano andando pure uno vuoi ricercare venditore marcato buono c'è stato buono che visto hanno il tuo shop voglio chi si cae b andate a noi vuoi ricercarsi andate a noi ora ce ne abbiamo un luogo oh il don sto morto aiuto e non viene scena ah ma se scena questo ci combina una chiave prendiamo la posizione lì in ambazio colpito che dove sparo risparalo è stato un nemico è stato un nemico è stato un momento visivo guarda dove si può fare la città nemica che cosa facciamo un nemico una a terra una a terra fra una a terra Benvenuti nel gulag, chi sopravvive conquista la libertà, devi aspettare il tuo turno ... ... ... .... ... di morte mamma nuvi che mi caspita un località ma che mica compagno caduto completa la missione ci questo scontro e torni prima linea perdi e per te è finita tocca a te soldato occupati di quello stronzo hai uscito male ti riportiamo a casa voglio che sia l'ultimo per me va bene anche per me io ti ho finito il mattino lascio sto a Michele che ti pare se te ce l'embrezza tu te niente la fa rimane qual è no che gli rimane per le tarte già sacci e non ci dicono niente si fa tarte qual è eh Michele Michele è un padrone la tinta ah? ma come ha messo e se è piatto l'S20 è normale che non potessi essere fatto eh capisci no Michele fammi un piacere Michele regalci un cuffio al paletto anzi regalci un microfono che ci serve? ho giustito eh fai una cosa visto che il suo padrone regalo c'è la PS5 ah dai anche io e la regala disse che fa? perlomeno lo fai divertire un po' lo fai divertire un po' vabbè lo fai lo fai lo devi male in attesa dello schieramento è un buon momento per riscaldarsi ma lui hai visto con i miei cordi? eh ma perlice che c'è qui lì Michele ho un massimo che fa fucca sull'amati tu non fa male qui Michele stai sentando troppo male ma i miei 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 come fa la mossa a chi sta certo? grazie c'è giusto lo vissale non vuole qui stai su soldato nemico in arrivo ok può bastare adesso combatteremo per davvero al pomo tu c'è la pagina anche su youtube? si o su facebook? su facebook e su youtube però su youtube io lo uso solo come deposito cioè ci vado a mettere le live sopra ce le vado a mettere le live sopra perché da twitch a un certo punto nonostante io tengo l'affiliazione però a un certo punto te ne tolgono poi capi? i pier di stream attenzione che assi in avvicinamento per non cedere alla zona invece youtube ha aperta forma più grossa ma voglio allora mi sei schia mi sei schia per passare per questo è bello che sono a tutti uno più qui a su pienso che vedi che ti ho messo no? e me che ne so che ne ho messo niente vabbè noi ora ora non ho messo qui no ma ho già prima che ho messo lì però ora ti ho messo eh ma io non c'è niente che l'ho bello abbiamo messo da dai eh facciamo la basca eh facciamo la basca facciamo la basca eh facciamo la basca eh mi sposta recuperiamo un po' che facciamo lo prendo io quello veicolo nemico veicolo nemico abitato ah ho detto che ci siamo messi l'altro uomo pure un carro è morto facendo un po' tutto uomo mamma vizio la bobolette è già stammata e lì viene a terra il carro eh non so se riesca a arrivare fino a ci stamm noi l'obiettivo principale è farli tutti fuori ok no no provatevi a ritorno cassa di scorte marcata recuperiamola mi chè da gisci una cosa mi chè ho letto è pure mariole se vedi tutta l'arma no ma ci vediamo un M60 un M60 è merda che per sparare ci vuole ci vuole ci vuole lasciare ci vuole lasciare ci vuole contratto aggiornato nuovo obiettivo identificato Catania compagno finito nel Gulag chi sopravviva lì torna in prima linea Stacca! 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 Fermo bersaglio ostile! Cazzo! Contatto! Contatto! Ora sei nel Gulag! Lotta per tornare in azione! Vieni! Ah no! Ah sto... Ah mica! Stiamo sempre attendo Gulag! Preparati! Sei il troppo! Perché sei il primo! Ah! Sei avuto una roba! Un baglio caduto! Tornerà alla base! Ah! Giusto! Giusto! Vincito lo scontro e torni in prima! Fermi e per te è finita! Occupati di quello strozzo! Non sei uscito male! Ti riportiamo a casa! Se ha abbastanza soldi il tuo team può pagarti la cauzione! Allora Blues! Ma che cosa accerda a tanti aiuti! Allora... Che cosa facciamo a farlo? Che cosa facciamo a farlo? I fatti cosi tu vuoi? Sì! Ho deciso da... A tre loro in terra... Questa è una uccisione! una città guarda ammo ci hanno schiacciato buonanotte ragazzi ciao buonanotte vabbè tu quando vedi che non ti rispondiamo è perché siamo già completi come esce il posto ti facciamo entrare ascolta vedi che prima erano loro che dicevano invita 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 era il gruppo dei ragazzi che continuava a invitarsi per farti staccare dalla partita tranquillo ciao ciao buonanotte 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 buonanotte